Quanto prendi al mese? 600 euro. Hai famiglia? Ho un mutuo e tre bambini. Se ci togliesse il nostro 25%, che è il surplus del nostro contratto integrativo di secondo livello, noi arriveremo a 700 euro. Praticamente siamo stati sempre fermi. Noi qua stiamo per dare un messaggio forte e chiaro. Si tocca a uno, si tocca a tutti. Perché tutti i lavoratori devono essere tutelati. Marta, Mina, Angelo, storie di lavoratori occupati in settori diversi, sicurezza, ristorazione, trasporti, pulizia, ma accomunati da un unico destino, la crisi innescata dal Covid e l'incertezza sulla riapertura dello scalo trevigiano. La stanno pagando loro, a cui è stato chiesto ancora uno sforzo in più. Il 25% sono quasi 300-400 euro in meno. Una famiglia con 1.300-1.400 forse riesce ad andare avanti. Ma con 1.000 euro come fai? Con tutti i sacrifici che sono stati fatti. C'è il rischio che ovviamente i lavoratori in esubero passino a Venezia essendo un'unica società, Aires Retail. E quindi già a Venezia siamo tutti in casa integrazione, lavoriamo 10 ore al mese. Il rischio è che poi ci sia appunto un esubero di dipendenti. Io sono sola con due figli a carico. In questo momento con casa indarga che non ci pagano e ovviamente attendiamo anche gli assegni. E' molto preoccupante. Questi lavoratori sono fermi da un anno. 220 nel settore food a Venezia, 150 del retail, 140 in appalto nei comparti sicurezza e ristorazione Alcanova di Treviso, che diventano 460 se sommati ai colleghi occupati a Venezia. Se ci chiamano al tavolo noi siamo pronti a discutere qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio. Abbiamo dato dimostrazione che siamo in grado di farli, però non accetteremo che ci storga un cappello a nessuno. Alla manifestazione erano presenti i segretari generali di CGL e Cisle Will. Un anno di chiusura, dicono, ma anche di promesse, costi scaricati da Save e Air 3 sui lavoratori. I sindacati vogliono poter discutere del piano industriale con Save a fronte di un master plan da 58 milioni di euro.